Non si può mettere lo striscione perché Matteo Renzi ha detto che bisogna dimostrare che in Calabria va tutto bene, non ci sono problemi, c'è lavoro, c'è tutto. Azzittiti, censurati nel loro diritto di manifestare, così si sentono i dipendenti della provincia partiti da Vibo Valencia con destinazione mormanno, intenzionati ad esprimere al Premier Renzi in visita istituzionale per l'abbattimento dell'ultimo diaframma dell'A3, il disagio che da mesi ormai vivono a causa della mancata erogazione degli stipendi, una richiesta di aiuto che però a Renzi non arriverà mai o almeno non oggi. L'autobus sul quale viaggiavano i manifestanti diretti a mormanno è stato infatti bloccato dalla polizia all'altezza di Tarsia, una sosta forzata durata quasi un'ora giustificata con generiche motivazioni di ordine pubblico. Il viaggio dei lavoratori è poi ripreso ma con una meta diversa da quella stabilita e con un passeggero in più a bordo, un agente della Polstrada che ha accompagnato i manifestanti fino al luogo concesso per la protesta, uno spazio predisposto ma non a mormanno, a Cosenza per non rovinare la festa al Premier in perenne campagna elettorale. Loredana Colloca per l'AC News 24. Loredana Colloca per l'AC News 24.